Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi in questo giorno dedicato al Signore Domenica, giorno del Signore dedicato alla contemplazione della risurrezione di Gesù, della vita nuova, del mondo nuovo che Gesù è venuto a fondare su questa terra e che non tarderà, dice la scrittura, certamente i tempi di Dio non sono i tempi nostri, vorremmo che tutto si compisse nel giorno. In cui viviamo nella stessa giornata ogni progetto del Signore che ha i suoi tempi. E dice San Pietro, se Dio aspetta, se Dio non interviene immediatamente per dare all'uomo la possibilità di ravvedersi, di convertirsi, di tornare a Lui. E questa dovene della Madonna Immacolata, che la Chiesa ci consiglia di celebrare in questo periodo, vuole metterci davanti alla figura di Maria. In cui tutte le promesse di Dio si sono realizzate. E Maria ha avuto una missione particolare nella storia della nostra salvezza, quella di essere madre del Salvatore. Ora scrive San Paolo che i doni di Dio rimancano per sempre. La chiamata di Dio è irrevocabile. Perciò la missione di Maria è una missione che continua anche oggi. Infatti Gesù sulla croce, rivolgendosi a sua madre, indica a Giovanni dicendo «Donna, ecco tuo figlio» e a Giovanni, «Figlio, ecco tua madre». Per questo la Chiesa contempa Maria come la madre di Gesù Cristo, ma anche madre della Chiesa, come volle definirla Papa Paolo VI al termine del Concilio Vaticano II. E questo titolo ebbe il plauso anche degli evangelici che erano presenti. Madre della Chiesa, perché la Chiesa è nata dalla fede di Maria, non solo perché ha dato la nascita umana a Gesù Cristo, ma anche perché ha accompagnato la Chiesa. la troviamo a Cana, dove lei intercede per gli sposi e Gesù manifesta la sua gloria tramutando l'acqua in vino e l'allegrante quel matrimonio, quella celebrazione che doveva essere festosa, che invece rischiava di appannarsi con la mancanza della bevanda prelibata e Gesù dà una bevanda molto migliore di quello che essi si aspettavano a indicare che lui dà alla Chiesa il dono dell'amore, il dono dello Spirito Santo, la letizia che viene dal cuore e non quel che viene dal baccano esteriore. E vedete come Maria ha fatto da madre a Gesù anche nella sua manifestazione e ha fatto da madre a Gesù quando l'ha presentato al Tempio, quando l'ha presentato a Andrì Salvetta, ma gli ha fatto da madre a Gesù sotto la croce, l'ha assistito, ha compartecipato con lui, ha sofferto insieme a lui in un unico spirito, vivendo un'unica vita per cui il cuore di Maria, il cuore di Gesù, il cuore di Gesù, il cuore di Maria. E noi dobbiamo temere, fratelli, di venerarla. Ricordate le parole dette da Gesù a Santa Geltrude. Chi parla di mia madre? Parla di me. È la Madonna Fatima. Il mio figlio vuole diffondere nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Questa è la volontà di mio figlio, che gli uomini conoscono Dio, sperimentando l'amore innanzitutto, attraverso l'amore di Maria. E tante persone attraverso l'amore materno di Maria scoprono l'amore di Dio. Ecco la maternità di Maria, fratelli, che continua oggi nella Chiesa. E allora anche noi la proclamiamo beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Lei dice nel Magnificat. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Per questo tutte le generazioni mi chiameranno beata. Beata perché ha obbedito a Dio. Beata te, dice Elisabetta, perché hai creduto all'adempimento delle parole del Signore. E questa beatitudine che oggi la Madonna vuole comunicare tutta la Chiesa a tutti noi, la beatitudine della sottomissione alla volontà di Dio. Beatitudine nella fede, nella fiducia da porre, nella grazia del Signore. E la liturgia di oggi ci mette davanti a questa beatitudine, fratelli. Dal profeta Baruch, leggiamo oggi nella prima lettura, Deponio Gerusalemme, la festa del lutto e dell'afflizione. rivestiti dello splendore e della gloria che ti viene da Dio per sempre. Avvolgiti nel mando della giustizia di Dio. Metti sul tuo capo il diademo di gloria dell'Eterno, perché Dio mostrerà il tuo splendore a ogni creatura sotto il cielo. Sarai chiamato da Dio per sempre. Pace di giustizia e gloria di pietà. Sorge Gerusalemme, stai in piedi sull'altura e guarda verso l'Oriente. Vedi i tuoi figli riuniti dal tramonto del sole fino al suo sorgere. A chi si rivolge il profeta? A tutti quei giudei ed ebrei che erano stati deportati in Babilonia, in Assinia. E Dio raduna tutti. E queste parole sono particolarmente significative. Oggi il Signore vuole liberare i poveri di questo mondo. Il Signore vuole liberare gli oppressi, vuole consolare coloro che piangono e per questo vuole far brillare la sua Chiesa per santità e verità. A Lui perciò diamo lode. E il profeta dice che persino la natura gioisce al passaggio di questi reduci. le valli, i colli si abbassano per favorire il ritorno del popolo di Dio nella terra che Dio ha destinato loro. E l'Apostolo Paolo, nella seconda lettura che noi ascoltiamo oggi, ci rivolge queste parole, dicendo Fratelli, sempre quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia a motivo della vostra cooperazione al Vangelo. San Paolo esalta nei suoi fedeli di Filippi questa virtù, quella dello zelo apostolico che abbiamo visto qualche giorno fa. la Chiesa mette in evidenza nella Madonna, lo zelo apostolico. Maria ha ricevuto il dono di Gesù Cristo, lo porta all'Isabetta, l'annuncia, tanto che persino Giovanni gioisce nel grembo della madre. Che tu abbia accolto veramente la parola di Dio e gli abbia dato il cuore, si vede da come lo testimoni, da come lo partecipa ad altri, perché il dono di Dio se resta fermo, dice Papa Francesco diventa come l'acqua che quando non scorre sul letto del fiume e impotredisce, così la nostra fede si altera se non viene comunicata con amore, non viene propagandata per crescere il numero dei partecipanti alla Messa, no, il dono si deve comunicare, non si comunica qualcosa, si comunica il dono di Dio, cioè la grazia di Dio, si comunica Gesù Cristo, si comunica lo Spirito Santo, si comunica il dono della salvezza, che è Gesù. quindi lo faccio con gioia a motivo della vostra cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno fino al presente, cioè non vi siete mai stancati, sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi quest'opera buona, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù, fino al giorno, cioè Dio, iniziate quest'opera in voi, non vi lascerà nella mediocrità, vi porterà alla pienezza, alla perfezione della fede, perciò prego che la vostra carità cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento, perché possiate distinguere ciò che è meglio ed essere integri e irriprensibili per il giorno di Cristo Gesù. E nel Vangelo la Chiesa ci presenta la figura di Giovanni Battista che viene a preparare la strada del Signore. Lui viene a portare la parola di salvezza perché gli uomini si preparino a ricevere colui che doveva venire. Al tempo di Giovanni Battista, fratelli, sappiamo bene che c'era una corrente molto forte, una corrente religiosa, quella degli Esseni, che attendeva la venuta del Messiae da un momento all'altro, tanto che molti si consagravano alla verginità, si consagravano alla verginità. Lazzaro, amico di Gesù, non si era sposato, le sue sorelle non si erano sposate, non perché non avessero mezzi oppure partiti da scegliere, ma perché erano attesi quell'avvento, vediamolo Gesù continuamente presente nella loro casa, era diventato un po' come la sua casa, era di casa Gesù, che appunto era circondato da molti di questi credenti che aspettavano la sua venuta. Signore Gesù, il mondo intero oggi ti aspetta, nel mondo intero la sofferenza oggi sta svelando la tua venuta agli occhi di molti credenti. Signore ti preghiamo, affretta la tua venuta, manifesta la tua gloria, accorcia i tempi dell'attesa, fa che la tua gloria risplenda in mezzo all'umanità e tutti gli uomini toccati alla tua grazia rinascono a vita nuova, rinascono da acqua e dal Spirito Santo, tu che vivi e regni per tutti i secoli e dei secoli. Amen. Vergine Santissima, fa che oggi la Chiesa cammini per questa strada nuova della fede, totale adesione a Gesù Cristo, perché si compia anche nella Chiesa di oggi e nell'umanità di oggi, quello che ci dice il salmista, quando il Signore ristabellì la sorte di Sion ci sembrava di sognare, allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia, allora si diceva tra le genti il Signore ha fatto grandi cose per loro, grandi cose ha fatto il Signore per noi, eravamo pieni di gioia, Vergine Santissima sono le parole che tu hai rivolta a Elisabetta, grandi cose ha fatto il Signore e santo è il suo nome e oggi tutta la Chiesa con la tua intercessione sotto la tua ghida canti in questa nodia Signore grandi cose hai preparato per noi grandi cose stai facendo per noi a te gloria onore e potenza per tutti i secoli dei secoli amene e che questo canto di gioia oggi fratelli risuone nei vostri cuori rinnovi le vostre vite e il vostro culto a Dio si è un culto nello spirito dove si inneggia la sua santità alla sua bontà alla sua eterna fedeltà amene